PD è svolta civica contro il comune di Como sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati. Al centro delle riflessioni, la situazione del gruppo di giovani è rimasto per giorni la scorsa settimana fuori dalla questura cittadina in attesa di comprendere la loro destinazione. Situazione che ha poi spiegato il sindaco Alessandro Rapinese, è stata gestita insieme con la prefettura e i ragazzi sono stati poi ospitati all'Ipomo dalla Croce Rossa. In diretta su ITV il primo cittadino è tornato a rendicontare i numeri del fenomeno parlando di 347 minori stranieri non accompagnati in carico al comune. Siamo al limite massimo, ha detto, sollecitando l'intervento anche delle amministrazioni confinanti dove i dati sono ben diversi. Già nei giorni scorsi era stato chiarito che questi ragazzi non sono fisicamente tutti sul territorio ma vengono poi affidati alle comunità di accoglienza distribuite in tutta Italia pur restando in carico a Palazzo Cernezzi. PD e svolta civica analizzando quanto avvenuto nei giorni scorsi si rivolgono a Rapinese per prima cosa che lo voglia o no il responsabile dei minori non accompagnati e il sindaco e lui assieme all'assessore di competenza e alla struttura comunale a doverli prendere in carico quando arrivano in città senza liquidarle a un dormitorio, alla Croce Rossa di Lipomo assieme agli adulti dove non dovrebbero stare oppure lasciando che siano i volontari e parrocchi a prendersene cura. Si legge in una nota diffusa a nome dei consiglieri comunali dei due gruppi in cui si precisa che ci sarebbero anche delle realtà che si occupano della pronta accoglienza che si sarebbero rese disponibili ad aumentare i posti. Il governo, dicono ancora i consiglieri, rimborsa al comune dai 60 ai 100 euro al giorno per ogni ragazzo l'aumento dei posti avrebbe un impatto minimo sul bilancio comunale. Il sindaco, senza osare giri di parole, aveva inoltre sottolineato che le Quevarese si trovano rispettivamente con 10 e 30 minori siamo così vicini eppure i numeri sono così diversi perché come è così attrattiva come arrivavano i ragazzi la scorsa settimana fuori dalla questura si è chiesto Rapinese spiegando che l'amministrazione sta svolgendo verifiche sulle singole situazioni. PD e svolta civica infine aggiungono il sindaco lancia un'accusa di strumentalizzazione dei minori dimenticando che quei ragazzi erano lì in attesa di conoscere se il comune, come prevede la legge, se ne sarebbe fatto carico.